Salve a tutti e benvenuti a un nuovo video di Bleach Immortal Soul stavolta vi mostrerò il nuovo evento perché ho qualcosa da portare insomma quindi andiamo stanno già da pesanti quindi sarà difficile già provare a pensare a tutto qui intanto metto chiaro quella cosa con One Punch e Rott Hero che per ora è in pausa non so nemmeno io cosa sta facendo qui abbiamo intanto il pass di Lisa versione non lo so col kimono insomma kimono autunnale diciamo o primaverile e Rott Hero è un gioco che boh non lo so sta peggiorando sembrerebbe con varie cose quindi potrebbe essere sicuramente un problema giocarci d'ora in poi quindi fino a quando non vedrò qualcosa di sicuramente migliore potrei anche evitare a portare pure i video di esso perché poi quando ho dato il robot sto avendo un pochetto di fortuna ho ottenuto un nuovo robot uno più forte appunto che ve lo mostrerà quando avrò voglia di far vedere di nuovo la mutata manca solo due robot mancano pochi frammenti sembra che stia peggiorando perché non sto dando molti nemmeno molti diamanti quindi non lo so sembra molto molto più problematica sta facendo tanto teniamo qui a sublitch ecco qui vi faccio vedere il mio nuovo UR Sael e sta ottenuto Sael Apollo perché ho messo con un po' di altri oggetti ma qui ho sbloccato molte cose come vedete compro ogni tanto potenze molti personaggi e ho molti problemi con chissà che oddio non ci apriamo in seconda facciamolo insieme devo iniziare tutti i miei UR in modo che abbia una mossa viola le mosse viola almeno a livello 52 e l'ultimo che mi rimane 50 insomma 50 verso lì l'ultimo mi rimane appunto a lui ho spiegato un bel po' di roba per ottenerlo e poi inserlo oggi però vabbè ci sta 17.000 sono ci sono 11.000 quindi ancora sono qui perché c'è un nuovo evento di 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 Sael e Tia e quindi io già ce l'avevo già ce l'avevo già quindi ho fatto a sparire in 3 secondi ho fatto a sparire quello che è rimasto di lui ho quasi tenuto la sua arma non so quali sono queste armi ancora non riesco nemmeno a capire dove andrebbero messe non ho la mia idea quindi ne volevo ottenere una ma non l'ho mai ottenuta purtroppo no il coyote mi era diventato di lui l'ho potenziato è finita e anche lì c'ha le armi io ora lo deve mancare solo lui mi sono diventato non so quanto mi è rimasto ma ok soltanto un'arma che qua abbiamo intanto abbiamo un'abilità di riuscire ad attivare cosa è non so cosa voglio ma non mi risulta che posso togliere questa notifica no la mia idea ok oddio copriva tutto ok è attivata questa eccola qui perfetto non so quanto ancora l'abilità deve attivare si metterebbe un bottone in cui magari attivarsi tutto e sarebbe davvero bello comunque eccetera nulla noi stiamo sugli uri soltanto ecco qui manca solo lui vediamo un po' cosa possiamo fare non molto da tutto quello che ho fatto oggi si aspetta qualcosa perché da qui imparavamo molti oggetti da tata 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 48 52 perfetto almeno è arrivato come tutti gli altri e così qua bene o posso tornare da un cliente a raccomandare tutto e se che sale alle 56 per ora per far arrivare un viola più 2 non so che le alle devono arrivare che sono 50 viola più 3 devono arrivare al 54 viola più 4 devono arrivare al 58 da qui in poi non so totalmente nient'altro mi ha detto però di dare il punto di andare ai persaggico a finora farerà tutte le alle 73 almeno e a viola più 4 quindi mi serve ancora un po' di tempo e lui è un altuario che si è messo in mezzo e è stato abbastanza difficile insomma questo è l'avvento di Tia e Sile e sono anche i loro oggetti ci sono ancora molto molto a tenere purtroppo non potevo ottenere questi qua questi gettoni quindi è stato abbastanza difficile e un po' una fregatura ma speriamo che la prossima volta sarà più facile quindi niente purtroppo questo era il mini evento ho detto quello che devo dire qui e basta questo era il video ci vediamo la prossima volta a Pia scegliere di portare qualcosa di portare magari direttamente il video per un nuovo gioco quindi qui è tutto e noi ci vediamo direttamente il prossimo giovedì ciao a tutti da Cristander ciao